Musica Antonino Guadagnino, ci spiega che cosa sono i trail? Bella domanda, cosa sono i trail? I trail sono la corsa in natura sostanzialmente, è una disciplina che negli anni si sta sempre più esprimendo. Io l'ho conosciuta nel 2011 quando per caso mi sono trovato a farlo, a caso l'avo al segno e dal di lì è partita un po' la mia avventura nel trail. E ha cominciato a vincere un po' di gare, qual è il suo palmarès per adesso? Ma il mio palmarès, ti dirò, vinsi proprio la prima a caso l'avo al segno proprio da principiante e dal di lì è partita poi la prima vittoria a caso l'avo al segno nel 2016-2017. Ho vinto Brisighella, Berdia Prataglia, Portico di Romagna, il Fumaiolo, quindi insomma ne ho vinte abbastanza. Ecco, e sono discipline sempre più diffuse. Come mai secondo lei il trail sta prendendo così piede? Ma sicuramente è un po' dallo staccarsi, un po' dal, diciamo dal cemento e dal mondo insomma dove siamo racchiusi. E sicuramente il verde e tutto quello che è natura ti dà veramente una ricarica psicologica e quindi non c'è bisogno neanche del lettino del psicologo, secondo me è proprio un antidepressivo di natura. E tutto quello che è il bosco e natura ti ricarica, ti ricarica veramente dalla quotidianità. Per me è proprio un rigenerarmi, io trovo queste sensazioni e questo beneficio. E sento proprio il mio corpo che ha bisogno, quindi accumulo dell'energia. Poi quando sono nel mio mondo a Badia Prataglia, lì sento proprio il profumo, cioè sento proprio il mio corpo e tutti i profumi che mi sono attorno, ecco. Ecco, noi cittadini vediamo i corniboschi come un tipo un po' strano, però ribaltando il concetto forse non è che quelli strani siamo noi. Ma no, non direi, dai, insomma, gli umani sono un po' strani, ultimamente credo che proprio l'umano sia abbastanza strano, ma no, sicuramente potete avvicinarvi anche voi, ecco. Perché è veramente facile, è una disciplina facile, facile facile, l'importante è avere un po' di voglia, di spostarsi e di provarlo, ecco. Questa è un po', credo, un po' la chiave di tutto. Il mio mondo è il bosco e vado nel mio mondo, grazie, ciao!